Sì, è stata una competizione, quella amministrativa, legata al dato politico provinciale. Questo ha fatto sì che si concentrasse un po' tutta l'attenzione trasversale ed è stata veramente molto, molto competitiva. Però io ringrazio la mia comunità di Faicchio che mi è stata vicina, hanno fatto prevalere il senso della responsabilità, dell'equilibrio e questo ha fatto sì che riconfermassero questa carica di sindaco che mi fa conservare la carica di presidente e adesso niente, continuiamo a lavorare. Un po' stanco, mi riprendo e devo dire ancora grazie per la vicinanza stretta della comunità che hanno compreso che questa competizione amministrativa teneva più il sapore provinciale di alcuni partiti trasversali, sinistra, destra, per dare una spallata alla Rocca, non per l'interesse della comunità di Faicchio.